Ciao a tutti, un saluto dal memista e benvenuti in questa nuova mini guida. Oggi ho raggiunto il traguardo dei 20 video e per festeggiare questo evento vi farò vedere un super glitch. Questo è un glitch veramente utile, quindi seguitelo attentamente. Per prima cosa dovremo attivare il salto lunare, quindi che vi avevo già fatto vedere in un altro video. Quindi dobbiamo praticamente salire a cavallo, nel gioco del cavallo. Quello dove bisogna praticamente colpire i bersagli con l'arco. Dobbiamo andare dall'altra parte dove ci sono questi tre cavalli. Scampichiamoci in questa collinetta ovviamente come abbiamo fatto nell'altro video. Ok, mi dovrei buttare dal cavallo più o meno a 25-20 secondi. Meglio 20 secondi. Olè, adesso. Mi sono buttato dalla paravela a 21 secondi, quindi mi sa che farò rodeo per un bel po'. Rilasciamo la paravela su uno dei cavalli e clicchiamo A per evitare di essere scalciati dal cavallo. Ok, adesso aspettiamo un attimo, si dovrebbe esaurire la stamina. Ecco, quando si sta per esaurire ci mangiamo una ricetta prendi fiato. Vediamo quale mi posso mangiare. Ecco, riso con selvaggini XXL prendi fiato, mi sembra perfetta. Olè, mangiamo e riprendiamoci un po' di stamina. Ecco, fatto. Mancano 3 secondi, ce la dovrei fare. E' fatta. Abbiamo attivato il salto lunare. Questo è il primo passaggio di questo glitch. Ecco, adesso quello che bisogna fare è entrare nella mappa e praticamente dovremmo avere attivato il travel medallion in un preciso punto della mappa, che deve essere quello. Guardate attentamente dove ho messo il travel medallion, perché voi per far uscire questo glitch dovrete averlo messo proprio nel punto dove l'ho messo io. Guardate, ecco, in questa specie di montagna, vedete? Qua ci ho messo il travel medallion e quindi dovete aver attivato lì il travel medallion e noi dobbiamo andare in quel preciso punto della mappa. Dopo aver attivato ovviamente il salto lunare. Eccoci. Vedete? Abbiamo messo il travel medallion in questo preciso punto della mappa. Vedete che si vede anche la base bobblin, quindi è abbastanza... è facile intuire dove l'ho messo, ecco. In ogni caso vi ho fatto vedere nella mappa dove l'ho piazzato. Ecco, adesso da qua dobbiamo andare al bosco di Korogu per attivare appunto la prova della spada. Eccoci. Andiamo nel triangolino a parlare con l'albero. Pazzesco. Posso anche parlare con gli alberi adesso. Ecco qua abbiamo attivato l'inizio della nostra magnifica prova della spada. Questo è un glitch utilissimo perché la prova della spada sono 45 stanze. Ecco, questo glitch vi permetterà di raddoppiare la potenza della vostra spada suprema facendone solamente 11. Peraltro le più facili. Io vi farò vedere solo l'ultima stanza che sono nella prova iniziale la sesta e nella prova finale la quinta che sono due boss che non abbiamo ancora fatto. Quindi non posso farvi vedere tutte le stanze perché sennò questo video durerebbe un'ora e mezza. Però vi farò vedere le più belle con i boss. Eccoci qua. Nella prova iniziale dobbiamo arrivare al livello 6, ovvero al sotterraneo 6. Dovremmo fare fondamentalmente 6 stanze su 15 e nell'ultima, ovvero la sesta, troveremo il sassorok. Che è un boss che non avevo mai fatto nel canale. Mamma mia quant'è antipato. Un modo per colpirlo è sicuramente usare l'arco su questa specie di minerale perché è questo deposito di minerali che è in testa che bisogna colpire per calargli la vita. Se gli colpisci tutto il resto del corpo non gli fai niente. Quindi la soluzione per sconfiggerlo è colpire questa specie di minerale che è in testa. In ogni caso abbiamo dalla nostra il salto lunato. Che può essere un grandissimo aiuto. Ok, voglio prendere una spada perché voglio provare a salire di sopra. Però prima voglio provare a farlo sburone e colpirlo un po' con l'arco. E dai, non fare così, siamo tragenti uomini. Dai, su. Niente, devo dire che è abbastanza fallimentare questa strategia di provare a colpirlo con l'arco. Adesso mi mangio un po' di ingredienti che mi sono fatto umiliare abbastanza. Niente, più vi lancio le frecce più si arrapio. Un momento molto utile per colpirlo è sicuramente quando sta riprendendo i massi da terra. Però lo fa in maniera anche abbastanza veloce, devo dire. Niente, oggi ho la mira di un trichetto, quindi direi di cambiare strategia. Ok, no, proprio adesso che avevo cambiato strategia, mamma. Ok, adesso facciamo le cose seriamente. Salto lunare verso la tua testa e andiamo a colpire direttamente con la spada al migliorale. Ecco qua, guardate. Guardate con che velocità riesco a colpirlo, guardate. Abbiamo tolto praticamente più vita in questo frangente che in tutto il resto della battaglia. L'ho tolto praticamente due terzi di vita. Comunque è pazzesco che questo masso che mi ha lanciato contro non abbia distrutto quell'albero. Chissà come avrà fatto a resistere. Rifugiarsi dietro gli alberi è un'ottima soluzione. Per evitare anche di essere colpiti dalle sue sassate. Adesso aspetto che si calli un attimo. Peccato, sulla carta mi stava anche simpatico questo boss. Ecco, e l'abbiamo disintegrato. Con questo boss ci aiuta veramente tantissimo il salto lunare, perché con il salto lunare se lo tagli in testa è una cosa veramente facile, una facilità pazzesca. In ogni caso, nella proma iniziale della spada dovremmo arrivare al piano 7. E adesso scoprirete il perché. Andiamo al piano 7. Ecco, al piano 7 troviamo questa stanza bellissima. In questo mini boschetto meraviglioso. Da picnic. Quello che dobbiamo fare adesso è perdere tutta la stamina. Molto semplicemente. Dobbiamo fondamentalmente perdere tutta la stamina buttandoci in acqua. Fondamentalmente. Vedete come sto facendo adesso. Ecco, adesso vi faccio vedere, guardate. Vedete che sto perdendo tutta la stamina. Quando abbiamo perduto tutta la stamina dobbiamo buttarci in acqua. Vedete? Guardate che la sto per perdere tutta. Ecco. Quando l'abbiamo persa tutta dobbiamo finire in acqua. E guardate che cosa è successo invece di morire. Ci siamo risvegliati in questo pseudo mondo parallelo. Fantastico. Il glitch sta riuscendo perfettamente. Guardate. Siamo praticamente in questo mondo parallelo e siamo in cielo. Ecco. Vedete davanti a noi è apparsa una struttura molto particolare. Una sorta di cupola, no? Ecco. Noi qua dobbiamo salire, 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 salire. Premendo X. Fino a quando non siamo paralleli. Vedete quella lucidatura della cupola che si trova in alto a destra? Dobbiamo più o meno essere paralleli a quella specie di lucidatura lì. Quando siamo paralleli a quella lucidatura, quindi siamo più o meno all'angolo della cupola, dobbiamo anche iniziare a premere la levetta analogica verso l'alto per avvicinarci all'interno della struttura. Perché vedrete adesso una sorpresa favolosa. Ovviamente ho accelerato di molto il video perché per salire in alto ci vuole un po'. Vedete che ci stiamo avvicinando a questa specie di lucidatura in alto a destra che si trova nell'angolo della cupola. Vedete? Quando saremo vicini a questa lucidatura praticamente potremo entrare all'interno della struttura, aiutandoci anche con la levetta analogica verso l'alto. Guardate, adesso sono leggermente in basso, non sono proprio parallelo, però guardate cosa sta succedendo. Guardate che spettacolo! Siamo finiti all'interno di questa cupola, in questa stanza favolosa e questa non è altro che la stanza dove potremo ottenere il potenziamento della spada suprema. Quindi abbiamo fatto 6 stanze di mostri e ne abbiamo risparmiate altre, perché sono 15, ne abbiamo risparmiate praticamente altre 8. E quindi ci siamo semplificati la vita. Adesso ci vuole un po', chiaramente ci vuole un po' di pazienza, perché dobbiamo coincidere con il quadratino dove si trova la spada. Sento un po' il pilota di me stesso, mi sento come un aeroplano in questo momento, guardate. E guardate che spettacolo! Abbiamo ottenuto il nostro potenziamento della spada suprema dopo solamente 6 stanze, anziché 15. Guardate che panorama magnifico inoltre, questa stanza è gigantesca. Ok, prendiamo il nostro potenziamento. Guardate come sfoggio con stile la mia spada. E abbiamo ottenuto il potenziamento della spada suprema da 30 a 40. Ecco, per la prova della spada intermedia siamo veramente fortunati, perché se prima le stanze che dovevamo affrontare erano 6, in questa prova intermedia saranno 0. Quindi siamo veramente fortunati. Per quale motivo? Noi finiamo nella prima stanza in questo momento. Quello che adesso dobbiamo fare è semplicemente di buttarci sotto. Guardate cosa succede, allora. Ovviamente schivando le frecce di Pong che ci lanciano, ci buttiamo sotto. Dopo, alla prima stanza questa, non alla seconda o alla terza, subito. E guardate cosa succede. Si riattiva il glitch di prima, torniamo nel mondo parallelo. Quindi in questa prova intermedia non abbiamo neanche avuto bisogno di fare una stanza. E tra l'altro, secondo me, visto anche che è la prova dove ci sono anche i guardiani, secondo me probabilmente la prova intermedia è anche la più difficile. Quindi guardate che fortuna. Il glitch si è attivato senza neanche fare una stanza, per quel che riguarda la prova intermedia. È bastato soltanto dall'inizio della prima stanza buttarsi sotto e il glitch si è subito riattivato. E adesso non ci resta che salire e ripetere la procedura di prima. Grazie a tutti. Eccoci, come potete vedere siamo quasi paralleli alla lucidatura e quindi adesso possiamo entrare all'interno della cupola. E sorpresa! Torniamo nella stanza di prima, ma ci sarà una differenza rispetto a prima. Adesso vi farò vedere quale. Ovviamente devo essere preciso e devo cercare anche qua di beccare il quadrato. Ecco, stavolta dobbiamo andare nel secondo quadrato, non nel primo. La differenza sarà semplicemente quella che troveremo la spada nel secondo quadratino e ovviamente potenziata. Ok, ci siamo quasi. E guardate che spettacolo! Abbiamo trovato la spada potenziata a livello intermedio nel secondo quadratino. Questo, come potete vedere, è il quadrato che avevamo fatto prima e quindi abbiamo in aggiunta anche questa meravigliosa scaletta che prima non c'era, vedete? E adesso non ci resta che raccattare la nostra spada potenziata. Sfoggiamo la nostra nuova spada da 50 ed ecco la magia! Abbiamo ottenuto la spada suprema a 50 e questa volta l'abbiamo ottenuta senza muovere un dito. Bene, adesso recupero un pochino di cuori perché invece nella prova della spada finale, quindi quella superiore, qualche stanza dovremmo farla. Dovremmo arrivare alla sesta stanza, quindi alla sesta stanza troveremo il laghetto dove dobbiamo perdere la stamina. Dobbiamo fare cinque stanze. In queste stanze nella prova finale bisognerà stare un po' attenti perché ci saranno i fulmini e ci saranno fondamentalmente gli scheletri. Quindi potrete trovare ovviamente i bobblin scheletro oppure i noblin, quindi i soliti seccatori. Però io vi farò vedere solamente l'ultima stanza, ovvero la quinta. E le altre vi spiegherò come farle in descrizione. Come potete vedere nella parte finale della prova della spada, nella quinta stanza, cioè l'ultima che dobbiamo fare, troviamo uno staldox che è il boss degli scheletri che non avevamo mai affrontato prima in nessuna guida. Fondamentalmente è un boss che non è difficile in realtà, è molto lento. Diciamo che ha un solo punto debole, ovvero l'occhio, come potete vedere, puoi colpirlo in qualunque parte del corpo, non gli fai niente, a meno che non gli colpisci l'occhio. Una strategia che a me piace contro questo scheletro, in realtà tecnicamente può essere anche utile usare lo stasis, ma diciamo non è un metodo che a me piace utilizzare. Io preferisco arrampicarmi sugli alberi e colpirlo con le frecce, stando ovviamente attento ai fulmini, perché chiaramente quando inizia ad esserci il segnale che i fulmini ci stanno per colpire, quindi quando l'inque sta per diventare elettrico e abbiamo un arco metallico dovremo immediatamente toglierlo. In questo momento però non sta succedendo, ecco adesso si, quindi cambiamo e metto un arco che non è diciamo metallico. Come potete vedere è piuttosto lento questo boss, quindi non ci colpisce molto. L'unica cosa che fa ogni tanto è prendere qualche bastoncino di legno oppure qualche barile bomba per lanciarcelo contro. Però non è niente di che, sono anche attacchi abbastanza goffi che si schivano con abbastanza facilità. Ecco, il metodo è sempre lo stesso, quindi finché non gli rimane poca vita che gli salterà via l'occhio dallo scheletro bisogna continuare a colpirlo così tendenzialmente. Vedete, ecco adesso che gli abbiamo tolto molta vita l'occhio è saltato via. Ecco, in questo caso qui bisogna colpirgli l'occhio, questa è un po' la difficoltà, nel senso che una volta che se lo rimette la vita gli ritorna, come potete vedere. Però quando gli salta via l'occhio bisogna colpire l'occhio. Adesso ci ha lanciato contro un barile bomba, che però abbiamo prontamente schivato. Fa quasi sempre questo attacco qua, quindi prende un barile bomba e ce lo lancia da contro. Vediamo, scommetto con barile bomba. Ecco qua, guarda, ci ho azzeccato. Ho appena vinto un milione di euro. Ecco, gli abbiamo rifatto saltare l'occhio e quindi adesso dobbiamo colpire l'occhio. Possibilmente con un bastone e con una spalla, per fare più. Adesso questa volta ho perso un po' il tempo, quindi la ripreso. Quindi mi riarrampico sull'albero, in modo da poter di nuovo tornare a colpirlo con le frecce e fargli di nuovo saltare l'occhio. Guardate com'è arrabbiato. Ecco, adesso ho di nuovo perso l'occhio. Quindi cosa facciamo? Prendiamo di nuovo la crava e iniziamo a colpire l'occhio. Ma no, ci ha fregato anche questa volta, la ripreso. Speriamo non si sia arrabbiato troppo. Ah, questa volta mi sono fatto colpire. Bravo lui. E' il colpo della bandiera. Adesso sto cambiando albero perché si è avvicinato un po' troppo. Mi sono messo in realtà adesso in questa piattaforma di roccia, che alla fine è uguale agli alberi. Nel senso che anche da questa sopraelevazione è difficile che ci possa colpire con bastoni e robe varie. Al massimo ci lancio i barili di bomba anche da qua. Non riesco più a colpirlo perché si è girato. Ecco, adesso ho preso il legnetto. Ha deciso di cambiare attacco finalmente. Vediamo cosa prende. Barile bomba, ecco qua. L'abbiamo preso e mi ha fatto saltare l'occhio. Adesso un pochino di grinta e uso la spada una mano perché si fa molto prima con quella. Riesco a colpirlo maggiormente. Alla fine era meglio usare la spada una mano che usare la clava. Con la clava alla fine all'occhio gli facevo meno colpi. Mangio un pochino di carne tanto per prevenire un possibile abbastamento che comunque credo che non ci sarà. Ho colpito due volte quando mi stavo per lanciare il barile bomba. È il momento perfetto quello per colpire. Ecco, sono riuscito a disintegrarlo. Perché io ho colpito l'occhio. Quindi avendogli ucciso l'occhio ho ucciso anche lo Stalnox. Ho preso queste tre bellissime armi elementari anche se non le userò mai. Perché con le stanze abbiamo finito direi. Ecco, vedete? Siamo al piano 6 e siamo nella stanza di prima che avevamo visto nella prova della spada iniziale. Quindi anche in questo caso ci basterà perdere tutta la stamina e buttarci nel lago. Però, come potete vedere, siamo arrivati alla sesta stanza e quindi noi abbiamo di fatto risparmiato ben nove stanze. Visto che le stanze anche nella parte finale erano 15. Adesso perdiamo tutta la stamina e facciamo il procedimento di prima. Che voglio rivedere la dimensione parallela. Eccoci qua, guardate che meraviglia. Siamo di nuovo nella dimensione distorta. Adesso dovrò saltare di nuovo un po' in alto premendo X in modo da far riapparire appunto la cupola. Dove potremo finalmente ottenere la nostra spada suprema finale con potenza raddoppiata. Ci vuole chiaramente un po' di pazienza, non si vede subito la cupola, bisogna salire un po'. Ecco qua, adesso la cupola è apparsa. Vedete sempre quella lucidatura in alto a destra e noi dovremmo avvicinarci a quella. Quindi vedete? Ed eccoci qua. Siamo di nuovo dentro questa stanza meravigliosa e vedete che si è aggiunta anche la scala finale. Quindi siamo a un passo dall'ottenere finalmente la nostra spada suprema con 60 di potenza. Dopo ovviamente l'andremo anche a provare. Vedete che meraviglia. Siamo a un passo dal completamento della prova della spada e ci siamo riusciti facendo soltanto 11 istanze su 45. Pazzesco. Cerco di finire più o meno nel secondo quadratino che tanto non cambia niente perché c'è la scala. Ok, ci siamo quasi, siamo a un passo dalla meta e atterraggio perfetto. Fantastico. Adesso andiamoci a godere la scena finale e prendiamoci la meravigliosa spada suprema definitiva. Qua intanto troviamo un sacco di saggi, ne troviamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sette saggi direi che ne bastava uno. Evidentemente non sono l'unico che ha preso la spada suprema barando. L'eroe ha acquisito il potere. Benissimo, abbiamo capito, grazie, ma lo sapevo già che la spada era aumentata. Se no, non avrei fatto tutto questo glitch meraviglioso. Proteggi Irule, l'ho già protetta perché ho già sconfitto Ganon, ma diciamo bisogna un pochino aggiornarsi. Non è facile leggere i giornali tutti i giorni. Prendiamo questa meravigliosa spada suprema, guardate che meraviglia. Ed ecco qua, abbiamo finalmente ottenuto la nostra spada suprema definitiva. Guardate che roba. Adesso la andremo a provare con i Boblin che dopo voglio farvi vedere quanto toglie. Guardate com'è bella luminescente. Ed ecco qua, abbiamo definitivamente ottenuto la nostra spada suprema definitiva da 60 di danno. Fantastico. Spero ovviamente che questo glitch vi sia utile. Ho requisito la forza fisica per il potenziale della spada suprema o un traguardo ammirevole. Fantastico. Abbiamo la nostra spada suprema con potenza raddoppiata. Ora non ci resta che andarla a provare. Ovviamente salutiamo il nostro amico albero che ci ha permesso di fare questa prova della spada. Ovviamente credendo che io facessi tutte le 45 stanze ma ovviamente non è stato così. Ok, adesso che ho finito il glitch posso andare allo stallaggio ad annullare il salto lunare anche perché usarlo mentre si sconfiggono i Boblin è abbastanza fastidioso. Quindi adesso mi dirigerò verso lo stallaggio. Cerco uno dove ci siano dei Boblin, ecco tipo questo. Eccoci qua, dovremo trovare uno stallaggio a pochi metri. Eccolo. Adesso attiverò il mio cavallo in modo da annullare il glitch del salto lunare che ci è servito poi come sottoglitch per attivare il glitch della prova della spada. Intanto ho preso in mano uno strumento anche un po' per contrastare il cosiddetto moon jump problem che è fondamentalmente un problema che può apparire durante il salto lunare e ci rallenta di molto mentre stiamo camminando. Ecco, tenere uno strumento ci permette di contrastare questo problema. Ok, prendiamo il nostro cavallo, ci saliamo sopra in modo da appunto annullare il glitch del salto lunare. Dopodiché andrò a colpire dei Boblin. Eccoci siamo, mi travedo già dei Boblin a cavallo, proprio quello che stavo cercando. e esordirò subito con il mio arco della luce. Ok, devo dire che oggi la mira non ha proprio il mio foco. Allora usiamo la spada suprema. Non so cosa stia facendo questo, sta tirando lanciate a caso. Ok, questo è un pochino un problema, perché ci sta colpendo dalla distanza. Sarò costretto a ricorrere a quelle che sono le mie armi preferite, ovvero gli archi con le frecce bocche. Ecco qui, disintegrati in un colpo. Questa è l'arma che io so usare meglio. Dobbiamo usare la spada, ma niente, non funziona. Con questi due devo ricorrere alle maniere forti. Prendo anche uno scudo, che non l'avevo equipaggiato, me l'ho dimenticato. Spero almeno di colpire un Boblin con la spada suprema. Ok, ho usato una freccia di ghiaccio, dai. Non ho una gran mira, ma l'uso delle frecce elementari sono ancora la mia specialità. Ecco, qua intanto troviamo altri due Boblin, che fortuna. Non l'abbiamo già... Ah no, sono in vita tutti e due, perché mi sembrava di averlo ucciso invece adesso. Ecco. Finalmente possiamo usare la nostra spada suprema. L'ho già ucciso uno in un colpo, vediamo se per questo l'abbiamo praticamente colpito. Ecco, questo l'ho ucciso in due colpi, fondamentalmente. Con uno gli è rimasto uno di vita e con l'altro colpo l'ho ucciso. Quindi avete visto comunque che la spada suprema potenziata fa molto più danno, perché c'è differenza tra uccidere un Boblin in 4 o 5 colpi e uccidere un Ben 2. Bene, questo era il mio ventesimo video. Spero ovviamente che questo glitch vi sia stato utile. Non sarà l'ultimo episodio, nel senso che usciranno altri due episodi aggiuntivi. Quindi per il primo trimestre 2023 ci saranno ancora video, poi chiaramente uscirà Terzo of Kingdom e quindi chiuderò la saga. Grazie per la visione, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, buone fifanie, buoni dolci a tutti e alla prossima. Ciao!